con Turam che viene dietro in dribbling ma sbaglia l'appoggio, la dà Griezmann, allora l'Atletico Madrid può approfittarne sulla tre quarti, sesto minuto, ancora palla lunga, molto lunga, lunga per tutti, meno male con Sommer che esce, presa sicura e fa respirare i suoi. In partenza veramente da… Aggressione altissima poi, aggrediscono veramente alti. Esatto. Però non mi piace un po', sono solo sei minuti, però in sei minuti, due o tre volte già non mi è piaciuto il modo di andare a chiudere una volta uno, una volta l'altro, in queste partite qua deve essere vito morte, non puoi andare leggero perché poi l'episodio indirizza le partite. No, però ci sono anche gli avversari, comunque era prevedibile credo che l'Atletico partisse così. Sì, non così sbilanciato in avanti, cioè che partisse così sì, ma è un partito molto aggressivo e molto bilanciato in avanti. Vediamo, vediamo. Ora sbagliano una partenza dal basso, ecco, però recupera subito palla l'Atletico Madrid, Marciniac non fischia ancora fallo, fa giocare molto Marciniac, quindi bisogna stare anche attenti a questo. Bravissimo Cialanoglu, ecco quello che volevo vedere, cioè anche l'Inter può vincere i contrasti e Cialanoglu lo fa vedere, ora Bastoni la dà all'indietro, subisce fallo, questo è fallo netto anche per Marciniac, per tutti i regolamenti, caro Antonio, anche questo è fallo, per me era fallo anche quello di ieri per tutti i regolamenti, però sai. Punizione per l'Inter, quindi, punizione per l'Inter, il fallo è di Ko che intanto ci fanno rivedere la falcata di Lino, che se ne è andato in mezzo a due, veramente bravo. Bella parata, sì sì, veramente una bella parata con la mano aperta. Sì, tutto bene, poi il tiro era forte, non era magari angolatissimo, però era forte, non è… Sì, però era sulla traiettoria, era sulla traiettoria, non era… In diagonale, era in diagonale da sinistra, era molto angolata la posizione. Ha chiuso sul suo palo, sì. E quindi Antonio, la prima palla gol della serata è dell'Atletico, eh? Sì, io me lo aspettavo così, sono sincero, al di là delle battute e della partigianeria, è una partita che devi affrontare così, devi cercare da parte dell'Atletico, che devi cercare nel momento giusto di mettere paura all'avversario da subito, far capire che non contano in queste sfide i risultati ultimi o il morale di chi sta meglio o di chi sta peggio. I campionati sono una cosa, i ritorni di Champions League un'altra, quindi adesso l'Inter deve ritrovare naturalmente quella quadra che non gli manca, che è dimostrato di avere e quella possibilità anche legata a una serata, che se partisse magari peggio di come stiamo vedendo o continuasse su altri binari, naturalmente metterebbe in crisi anche un sistema collaudato come quello dell'Inter. Attenzione, scusate, ancora Vino che punta Dufris, Dufris respinge. Però c'era fallo, quest'arbitro non sta fischiando niente. Eh però devono calarsi nella partita, perché non è che possono continuare a alzare le mani, se fa correre ti devi adeguare. Poi Mario, non giudicare le interpretazioni sui falli come in Italia, perché comunque c'è un'altra lettura nell'arbitragio UEFA. Questo ormai l'abbiamo capito, in Europa è un altro... Non è Inter frosinone. Sono d'accordo, però... Attenzione, rimessa di Hermoso che come un corner corto palla in aria di rigore e respinge la difesa, ancora Atletico Madrid che la ributta in aria, ora Lautaro prova a recuperare questo possesso, ma se l'allunga un po' poi combatte in fallo laterale, ma la rimessa è per l'Atletico che rimane in zona d'attacco. Chiedono un fallo di mano ai giocatori dell'Atletico. Sì, parte Turam, attenzione perché Turam cambia marcia, c'è Di Marco tutto solo a sinistra, vediamo se lo vede Turam, prova il cambio gioco, ma viene respinto in fallo laterale. Rivediamo quel mani che dicevi prima, no la palla rimbalza, rimbalza sulla spalla di Lautaro e poi finisce sul braccio di Turam. Però diciamo che sono molto vicini i due. No, non mi sembra ci sia niente, infatti l'arbitro fa proseguire così come va. L'arbitro fa mi sembra o no? Comunque Mario in Italia te lo vanno a vedere. Che peccato però perché Turam aveva il 3 contro 2, Di Marco ha chiamato la palla, l'ha visto, Lautaro si è portato l'uomo al centro, se riesce il cambio gioco Di Marco importa, è stato qua Savic con una diagonale pazzesca, è riuscito a chiudere in fallo laterale. E' quello che un po' fa specie è la disparità eventualmente nelle scelte, perché ad esempio in questo caso sta facendo tanto correre, però c'è stata una ripartenza che è passata un po' in sordina, dove Lautaro ha preso la palla sul volto ed è stato fischiato fallo, ma l'Inter lì aveva l'occasione per ripartire uno contro uno. E però lì l'aveva presa anche col braccio, che era per proteggersi il volto. Assolutamente sì, se lì la visione dell'arbitro diventa un po' diversa. Sì, ma Mario fai polemica con l'arbitro dopo undici minuti. No, ma non è polemica, stiamo dicendo semplicemente quello che vediamo, in campo italiano e in campo internazionale. Ma te l'ho detto io, è diverso. Allora, se tu mi dici così, se tu mi dici così anch'io vedo. E quindi giudicalo con occhio e non da campionato italiano. No, io mi auguro che non ci sia disparità di scelta. Se no ogni azione ti devi lamentare. No, no, ma io non mi lamento, tanto per quanto mi riguarda, noi ce la giochiamo a testa alta. Oh, Pavard si addormenta, allora recupera palla Griezmann, poi Morata arriva Cialanoglu, sveglia Pavard, sveglia. Turam, ora recupera palla l'Inter che se ne può andare nello spazio con Dunfris a destra. Attenzione, Dunfris è veloce, Dunfris entra in aria di rigore, carica in destra e il tiro. La parata di Oblak, ancora Dunfris, il tiro di sinistro. La parata di Oblak, che cosa se lo mangia? Grande parata di Oblak. Dunfris il primo tiro, poteva provare ancora di più ad angolare la palla. È stato molto bravo ad andare nello spazio, soprattutto Turam a recuperare palla. Cialanoglu arrangiare Dunfris. Questo atletico che è sempre, abbiamo detto, sbilanciato, perché Ermoso non c'è mai dietro. Sempre Vizzele e Savic, Vizzele e Savic. Qua Ermoso ha provato a chiudere. Ma eravamo in quattro, eravamo. Ma puoi tirare in porta a Dimancino quando hai tre compagni liberi? Quindi diciamo che questa occasione pareggia quella di Lino. Molto simile, dalla stessa fascia guarda caso, perché l'Inter prova ad attaccare di là, Lino prova ad attaccare dalla stessa parte e quindi ci sarà un po' da divertire. Non è una partita bloccata finora. Ma poteva fare meglio Angelo qui Dunfris? Sulla seconda, sulla prima, secondo me, è stato perfetto. Sulla seconda poteva passare. Sulla seconda aveva la possibilità di cercare il compagno e riuscirci. Aveva Lautaro e Turam subito dietro. Se Lautaro aprima le gambe... Era così. Era proprio lì, come dire, ci sono. Paolo, se noi togliamo i primi 5-6 minuti, adesso l'Inter le misure le ha presa l'Atletico. Se l'Inter riesce a saltare il primo pressing è sempre pericoloso. Sempre. O sugli esterni o praticamente anche riesce ad arrivare sulle seconde palle nel caso loro respingono. Però se salta il pressing. Per adesso sta dando ancora un po' fastidio il pressing alto dell'Atletico. Ecco, però può durare tanto un pressing così? Beh, sono passati solo 20 minuti. Certo, certo. Però insomma è vero, un pressing così o ti rende subito oppure a lungo andare, no? Poi può diventare persino... È passata la spuriata, è passata la spuriata dei primi 10 minuti, ora siamo al ventesimo e l'Inter sta provando a mettere le tende nel campo, ad avere il possesso, a cercare di avere il pallino, di controllare, anche di abbassare i ritmi se possibile, poi di andare a cercare l'imbucata giusta. Penso che nel medio termine, posso dirlo? Segniamo. Dai, devi dirlo. Ci vuole, ci vuole, anche il gol nel primo tempo. Ora c'è una punizione per l'Inter sulla trequarta interessante, con Barella che aveva trovato qua il corridoio giusto. Lautaro di prima l'ha girata sulla sinistra, ma Savic si aiuta con il braccio e quindi Marciniac fischia la punizione, dove va Cialanoglu a battere. Qui l'Inter ha diverse soluzioni, ha giocatori che vanno di testa, può calciare, non lo so, è un po' lontano, lì alla Verón, però attenzione anche perché l'Atletico non avrà più la difesa di dieci anni fa, ma ha ancora Oblak che è veramente un grandissimo portiere. Cialanoglu la mette in mezzo per nessuno e Oblak non ha problemi. Però vedi, io, allora non è che devi per forza segnare, però nemmeno regalare il pallone. L'Inter sta perdendo dei palloni banali, adesso addirittura una punizione per i cosa la regala all'avversario. Ci vuole testa, testa al cento per cento, non sbagliare tutti questi palloni. Ancora Barella che ora va a contrasto, perde il duello con Coche che fa ripartire l'Atletico, che ora ha un po' di campo, attenzione all'Atletico. Rinviene Cialanoglu e fa perdere un po' l'attimo al centrocampista dell'Atletico che quindi deve andare ora a sinistra. Ma attenzione, ancora Atletico, palla in mezzo. Il colpo di testa di Morata Sommer, la parla, la blocca e la porta a terra. Sì, una parata plastica del portiere svizzero sul colpo di testa di Morata, però sono arrivati un po' troppo facilmente al close. Qua Dunfris deve andare più vicino a Hermoso e Morata stacca troppo facilmente. Bisogna franco bollarsi di più. Più cattiveria, voglio vedere. Forse l'It. Quelle che il Morata fan club hanno apprezzato. Infatti ti ho visto, stavo per venire da te, ti ho visto mani nei capelli, stavi proprio per esplodere di gioia e qui... Questa è un'occasione, perché era da solo Morata. Non era vicino però, eh? No, non era vicinissimo, sì. Cioè non era. Però è già la seconda o terza volta che staccano da soli. in mezzo a quattro dell'Inter. Eh ma per questo io ti dicevo in mezzo a De Vrij e a bastoni. Per questo io dico l'importanza di Acerbi. Allora De Vrij è un regista difensivo, un giocatore veramente un libero all'olandese. Lui quando vinse il premio di miglior difensore del campionato tre anni fa, disse sono contento di averlo vinto con le mie caratteristiche, questa pulizia nel passaggio. A Cerbi quando c'è da difendere, da richiamare gli uomini alle marcature, nella leadership mi dà più tranquillità. All'andata Morata fece quel colpo di testa a San Silo, una delle poche occasioni nemmeno nello specchio la porta e lì De Vrij si fece scavalcare. Quando c'è invece da poi andare in avanti, De Vrij è bravissimo. Però adesso in effetti è ripartito veramente da libero d'altri tempi. Palla al piede, un po' la Lucio mi ha ricordato. Anche più diciamo tecnicamente anche migliore De Vrij. Attenzione a Griezmann, palla in mezzo, un po' lunga ma c'è ancora la palla in campo. Inter che deve spazzare, Pavard lo fa, non sicuro. Ora Turam che la deve mettere a terra, un po' come una fogga, cerca di palleggiare con la testa ma la perde. E allora ancora atletico con De Paul. Siamo leggeri ora. De Paul palla al centro, De Vrij spizza quel tanto che basta per prolungare la traiettoria che va da Barella, mezz'ora di gioco, un terzo di partita se n'è andata. L'Inter è in vantaggio in virtù del gol dell'andata ma siamo 0-0 al Civitas metropolitano. Bisogna giocare per segnare, per vincere. Ora Inter che subisce fallo ma Marciniac dice di no, mi sembrava netto questo. Ancora Koche che allarga a sinistra per Lino, uno contro uno. Attenzione a Lino, il tiro di destro, alto, il tiro a giro. Ma siamo lontano da Lino. Franco Bollati a Lino. Avevamo appena detto, la sfuriata è passata, gli ultimi cinque minuti li ha fatti tutti l'Atletico Madrid, tenendola un po' lì, Paolo. Sì, ha ripreso campo e aggressività, cioè è tornato ad essere aggressivo. Però l'Inter non può pensare di giocarla sulle punte, è vero che devi far valere la tua qualità, però quando c'è da combattere devi combattere. Oggi l'Inter la vedo bella ma poco combattiva, spero di sbagliarmi ma soprattutto di andare a trovare il gol, come dicevate prima. Quello cambierebbe tutto. E quello cambierebbe tutto, spegnerebbe anche un po' l'entusiasmo. Attenzione, ancora colpo di tacco di Lautaro. Turam, Barella, Barella per... Barella ha fatto più errori che giocate giusto. Tanti passaggi sbagliati. Sente la partita, secondo me. Perché proprio sto sbagliando sempre la giocata, anche a livello di pensiero. Però Mario, non stiamo esagerando questi colpi di tacco. Sono sempre gli stessi che fanno i colpi di... Però allora ha ragione Bargigia, voi volete solo il calcio fisico. No, 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 ho capito, ma il tacco deve rompere, diciamola, deve essere una cosa straordinaria. No, non deve essere fine a se stesso, certo. Straordinaria, l'avversario non se l'aspetta. Se ogni palla è colpo di tacco, fuoca, palleggi, così... Ma come tutto, il tacco è bello se ti riesce, se non ti riesce non è più bello. Cioè, ovvio, ultimamente non sta succedendo. Attenzione, De Paolo che la mette in aria, ma Sommer fa buona guardia. Però non lo sai prima, cioè, non lo sai prima, se non sarebbe una scienza troppo esatta, anche il calcio, no? Che non è né scienza né esatta. Hai ragione. Dico che provare si può stare... Hai ragione, però quando è impossibile lo sai. Bravo, Sala, il cambio gioco su Di Marco. Di Marco la tiene in campo, vediamo? No, non la tiene in campo. È uscita, è uscita. Comunque, comunque quel signore che lui chiama De Paolo... È De Paul, no? È argentino, è argentino. No, no, perché magari uno è a casa... Rodrigo De Paolo. Però è l'unico che lo chiama così. È vero, però io ho sentito che effettivamente... Ser De Paul, in Inghilterra lo chiamano Ser De Paul. Esatto, De Paul, ma lui è argentino, però è vero. Ma anche qua, anche a Udine... Lo chiamavamo tutti De Paul. Io quando quando parlavo a Udine, senti qui, era De Paul, però va bene, non lo so. Lui cosa dice? De Paul. De Paul. Lui? No, 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 io dico il giocatore. No, no, io non lo so, non lo so. Attenzione, ora l'Inter che sviluppa un'azione a sinistra con Bastoni Barella. Barella per Di Marco, in tino. Goal! Goal! Come l'avevo detto! Di Marco! Di Federico Di Marco! Goal! Si inserisce con un'azione a sinistra molto bella l'Inter. Bravi, bravi. Allora la fascia a sinistra, ancora Bastoni, poi la palla al centro per Federico Di Marco che la mette di destro. Bellissima l'azione dell'Inter. Colpito Oblak che qui nulla poteva, l'esultanza anche di Ernesto Paolillo. Bravo! Avevo detto. E ora l'esultanza di Di Marco com'è? Atletico Madrid 0, Internazionale 1, al 33esimo. l'Inter l'ha sbloccata, l'assiste di Nicolo Barella. Nicolo Barella l'ha presa stavolta. Aveva sbagliato un po' di passaggi. Invece è falissimo. No, le avevano sbagliate tutte fino adesso. Ora, comunque, se l'avevo detto. Esatto, Angelo avevi detto. Ci ho preso. Posso dirlo? Tra poco segniamo i destri. Puoi ripeterlo, per favore, perché mi piacerebbe vedere anche queste cose. Deve essere ispirato, deve venire da lui. Devo sentirlo, devo sentirlo. Devo dire che Di Marco Mancino, Oblak che è un portiere anche nell'uno contro uno, non si arrende mai. si è tuffato con tutta la sua estensione, come se uno tirasse a giro sul palo lontano. Di Marco, invece, essendo Mancino, di destro l'ha messa sul primo palo. Però avete visto loro che lentezza nel rientrare, come erano scoperti. Molina, che è il quinto, è stato scavalcato. E Witzel e Savic, credo, l'altro centrale, ci hanno preso in velocità. Cioè, loro fanno fatica dietro, cioè, sono lenti. Ma come ha detto tu, Paolo, prima? Se superi quella prima linea di pressing, infatti loro hanno paura di andare sempre a pressare. Infatti, ragazzi, non vorrei dire, ma la competenza, Federico, sta alla tua sinistra. Perché io ho dato quella lettura della periodo dei pressi. Lui ha detto che segnavano fra poco. Mentre a destra cosa troviamo? Eh no, a destra c'è sicuramente il cuore. Il cuore, il cuore, ragazzi. No, quello sì, no, però... Cuore e competenza, ovviamente. Ci vuole il cuore. Però hai visto, no? Cuore e testa. Diciamo che qui c'è più lucidità. Qui c'è lucidità, esatto. Però possiamo fare i complimenti a Mister Inzaghi, che sta facendo un miracolo. Chi è? Che è successo? Mi sei sentito male. Cosa c'è, Antonio? Sali. Attenzione, ora l'Atletico Madrid al limite dell'aria, palla in mezzo. Pavaro sbaglia, Griezmann, il gol di Griezmann. Pareggio dell'Atletico. Il gol di Griezmann, che errore. Anche questo me lo sentivo. Ancora Pavaro, che le sta sbagliando tutte. Ma come si fa a sbagliare sta palla? Vediamo che Nikita Rian però chiama... Io non credo... Vediamo, vediamo. Magari è fuori gioco, vediamo un po'. Un errore veramente banale. Pavaro malissimo proprio. Allora, vediamo se è tutto buono intanto. Allora, palla da destra. No, è fuori gioco. No, c'è il piede. No, c'è il piede. Secondo me c'è il piede. Secondo me c'è il piede di De Frey. Quello è regolare. Allora, l'unico dubbio è Morata sul cross potrebbe essere oltre ma anch'io come Paolo... Secondo me c'è un piede di De Frey. Ho visto un piede anch'io, sì. Credo di Bastoni o di De Frey. Tra l'altro era rigore anche di Bastoni. L'ha presa di mano. Poi c'è un mani di Bastoni in aria, sì. Ecco perché Paolino faceva così. Perché lui l'ha vista due secondi prima di noi. Infatti io non capivo, dicevo cosa c'è Antonio. No, ma infatti io... Infatti io per una volta... Cioè le partite dell'Inter le guardo sempre così. Vedendo un po' prima. No, però Antonio non dire niente perché... L'azione era dell'atletico, mi è venuta un'angoscia perché sapevo che avremmo subito gol. Stanno controllando, eh? Allora, aspetta perché... È buono, è buono. No, allora evidentemente hanno controllato e non c'è fuori gioco perché quello era l'unico dubbio. Quello che però abbiamo visto. Sesto gol per Griezmann in otto partite. Pazzesco però, cioè l'Inter aveva segnato il gol non dico della qualificazione però della tranquillità perché se tu non prendi gol per il primo tempo e ne fai passare altri 10-15 minuti nel secondo... Possiamo dire che in questi due minuti, anzi cos'era? Il 35esimo e il 33esimo. In questi due minuti c'è il riassunto di questo primo tempo. C'è l'Inter che è bellissima, ha segnato con una bella trama che però è un po' superficiale ed è stata punita per questo intervento. dentro l'area, dentro... Guarda il colpo di Tama. Adesso è Turamma, ancora colpo di Tama. Ragazzi, ma non è l'amichevole del giovedì. Adesso tra l'altro ragazzi è una bolgia il metropolitano. Perché sto vedendo tutti i piedi anche in tribuna. Hai notato? L'Inter questa sera è molto tenera dentro l'area. Tenera, tenera. Sia sulle palle alte che hanno lasciato colpire Morata. Soprattutto Pavard, è un disastro stasera. Sono poco attenti. Però l'errore di Pavard è veramente inaspettato da un giocatore della sua qualità. Del suo spessore. Serve a Cerbi nel secondo tempo. Ora speriamo di... Ecco, Pavard è scivolata che però la regala all'avversario. Ancora De Paolo. Qui c'è il fallo. Infatti Marciniac fischia e quindi c'è la punizione dell'Atletico. Che adesso si è rinvigorito, chiaramente. Aveva preso una botta tremenda. Trovi subito il pareggio, cambia di nuovo tutta l'inizia. La cosa peggiore. Prendere gol un minuto dopo. Subito, subito. Ricordo che l'Atletico comunque quest'anno ha fatto delle partite, anche i supplementari, con Real Madrid che tra le favorite di questa Champions League è andato in questo stadio qua e le ha prese Real Madrid. Quindi sono partite 4-2, 5-3. È una squadra che non si arrende mai. Però prende gol. Però prende gol. Però dico io, passa in vantaggio. Come si fa a essere così leggeri in aria di rigore? Veramente sembrava... Ma lì è un errore individuale. Non lo puoi mai e poi mai... Sì, ma tu non puoi fare tre errori così, pavar dall'inizio della partita. Attenzione, palla ancora in aria. Savic, qui spazza Lautaro. Deve andare il capitano in aria per chiamare un po' i suoi alla cattiveria agonistica. Io dico sempre, Acerbi e Lautaro sono i leader di questa squadra. E qui uno in meno c'è nell'aria e si sta vedendo. Ora fallo su Turam, che ha continuato a fare tacchi, tacchettini in avanti. Ragazzi, stiamo esagerando con queste giocate di tacco. Siamo in un ottavo di Champions, ora è il fallo di Ko che c'è tutto. Ho capito la qualità, però anche un po' di combattività non guasterebbe. E qui guarda, hai ragione, perché qui per esempio... Guarda, guarda, solo, salici. Ma è quello che ti ho detto. Ma quando tu vai in sofferenza su dei traversoni che arrivano da lontano, vuol dire che sei poco attento e quindi mal posizionato. perché in teoria hai il tempo sul traversone di leggere la traiettoria. Invece sono sempre un po' fuori posizione. Quattro tiri a tre nello specchio, sei a quattro in generale a favore dell'Atletico. Era una partita veramente dopo il gol che si poteva giocare in modo diverso. Però adesso siamo uno a uno. Ripartiamo. Ecco Turam, che però è troppo corto il suo passaggio. Si stava inserendo Dunfriss. Testa in partita. Cari ragazzi, testa sulla partita. Coche, sono 39 minuti di gioco. Uno a uno, tutto in due minuti. Il gol di Marco, bellissimo, sull'assist di Barella e poi il pareggio di Crisman su un erroraccio di Pavard che ha lasciato poi il pallone. Attenzione, ancora il cross da destra. Ora Pavard, braccio attaccato al corpo. Protestano i giocatori dell'Atletico Madrid. Questo lo rivedranno. Se passa quella palla, Morata è solo davanti a Sommere. Mamma mia. Tutte le volte che mi hanno buttata dentro, non leggo le traiettorie. Sempre sorpreso. Io metterei a Cervi all'inizio del secondo tempo, subito a fine primo tempo. Anche se fino al sessantesimo, di solito Inzaghi, se non ci sono o infortuni o gialli, non fa sostituzioni. Vediamo. Sarebbe importante adesso anche, era bello andare al riposo col vantaggio, ma anche uno a uno, perché adesso l'Atletico ha preso coraggio. Ancora con De Paolo, palla in aria, respinge bastoni, palla a Dunfris che deve ragionare, la mette a terra. Dunfris che lancia a lungo per Lautaro, uno contro uno, Lautaro gli fischiano fallo. Ha rischiato l'Inter, qui Pavard ragazzi, che avete giustamente criticato per tutto il primo tempo, però qui ha salvato letteralmente un gol. Adesso sto vedendo dal basso e forse Sommer non l'avrebbe presa. Anche secondo me, quello era gol, Pavard ci mette il piede, salva. Poi forse Griezmann lì può tirare meglio. Attenzione De Vrij che vede Dunfris, lo lancia molto bene, Dunfris entra in aria da destra, Dunfris il cross sbagliato. Mamma mia, non puoi sbagliare questo. precisi là, precisi. Ma ha tirato troppo piano. C'erano Turam e Lautaro in aria di rigore, non soli, però Dunfris qua sbaglia completamente il passaggio rasoterra. De Vrij qua, bravissimo a cambiare fronte, vede Dunfris tutto solo, l'Atletico dietro veramente non difende bene, ma bisogna approfittarne un po' di più. Mentre prima nell'occasione di Griezmann, e Bastoni che si fa superare troppo facilmente, serve credo la leadership di Acerbi nel secondo tempo. Vedremo se Inzaghi farà il cambio subito oppure no, alla fine dei primi 45 minuti. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Dopo il pareggio solo atletico, devo dire, a parte questo contropiede, lancio lungo di De Vrij per Dunfris dell'Inter. Atletico che però si scopre molto, cioè ripeto, difende a uno e mezzo, nemmeno a due. E quindi l'Inter basta un bel cambio di campo, come Bastoni sa fare, come De Vrij sa fare, come tutti sanno fare, anche Pavar c'ha la Noglu nell'Inter, e si possono mettere in serie difficoltà i difensori dell'Atletico, che magari adesso si stanno facendo un po' trascinare in avanti. Vediamo Inter che riparte, fallo subito al centrocampo, e quindi punizione. Qui ci stava il giallo però, credo. È stato ammonito, quando non siamo stati collegati, Ermoso, per un fallo tattico, una ripartenza di Subarella. Quindi è l'unico giallo finora della partita per Marcini, ha un minuto di recupero, che è cominciato, quindi vediamo questo minuto, poi possiamo andare a commentare questo primo tempo, che ci aveva fatto pensare si potesse passare una serata tranquilla, ma chiediamo forse troppo, quindi accontentiamoci per adesso dell'1-1. Ancora Barella per Bastoni, testa alta, Bastoni che avanza, rallenta l'Inter, vuole tenere la palla, è l'ultima azione del primo tempo, perché mancano 30 secondi, io proverei ad andare di là. Proviamo ragazzi, dai, proviamo. Cialanoglu De Vrij, siamo sulla linea di centrocampo, ancora Bastoni, l'Atletico è tutto dietro la linea della palla, Bastoni per Mkhitaryan, si accende l'Inter, ancora Mkhitaryan per Pavard, c'è Dunfriss a destra, lo vede, Dunfriss nell'uno contro uno, vediamo cosa fa, forse deve andare all'indietro, lo atterrano, l'arbitro non fischia, Dunfriss combatte, poi alla fine punizione per l'Atletico, perché Dunfriss ha trattenuto la palla, non ti farà monire Denzel. Punizione per l'Atletico, credo che non ce la fa l'Atletico arrivare dall'altra parte, perché mancano cinque secondi, ci fanno rivedere il fallo che era più subito da Dunfriss, poi però trattiene la palla, se non fischi prima, non c'è niente neanche dopo. Ecco qua, De Vrij con la gamba all'indietro, tiene in gioco nel gol dell'Atletico, incredibile, perché veramente per un niente, purtroppo è così, Poi diciamo anche che quella palla arriva con due caramboli a Griezmann, però... Sì, smorzata da Pavard, che non la trattiene, e Griezmann che bacia il pallone, anche da Bastoni, e soprattutto da Pavard. Peccato perché, non è che era nell'aria, non è che Sommer è stato bombardato di tiri, pali, traverse, un po' di superiorità dell'Atletico negli ultimi dieci minuti, e nei primi dieci minuti, però quel gol è stato, diciamo si poteva evitare. Diciamo che il gol dell'1-1 ha cambiato nuovamente la partita, cioè l'Atletico è tornato a crederci. Perché non siamo come era prima con i gol fuori casa. Infatti devo dire che tu prima del gol di Di Marco hai detto adesso segniamo, ma dopo non hai più detto niente, quindi non te lo sentivi. No, anzi, ero preoccupato di un'eventuale ovvia reazione dell'Atletico, cioè non è che l'Atletico davanti al gol dell'Inter può restare disarmato, è chiaro che avrebbe subito cercato, avrei sperato non in un così breve tempo, perché sono passati due minuti. Due minuti. Due minuti. Sì, quello effettivamente, Paolo, è un errore, poi non lo so se è imperdonabile, nel senso che questo lo dirà il risultato finale, però gestire meglio quell'1-0 e andare all'intervallo così sarebbe stato molto importante. ma è un errore di attenzione, nel senso che comunque tu nel gol, ma anche in altre occasioni, è sempre mal posizionato, sorpresa, sulle palle che vengono buttate dentro l'area, no? Non tanto per vie centrali, ma sui cross, da sinistra e da destra. E lì tu avresti il tempo di leggere, posizionarsi, se non sono un po' distratti su quella roba lì. Sì, ma anche perché poi Mario l'Atletico a parte Murata non mi sembra che abbia dei grandi saltatori, cioè magari i difensori, Savic, Hermoso, ma insomma davanti Griezmann è piccolino. Però hanno una gran posizione perché onestamente su quattro cross l'hanno preso sempre loro nonostante fossero più bassi e in inferiorità numerica perché c'erano tre giocatori dell'Inter che non sono riusciti ad arrivare prima nulla. Ma sempre perdendo la traiettoria e non leggendola perché sempre staccati dal colpitore. Mai vicino. È vero. Anche sulla parata di Sommer, Su Murata. Però io comunque sto vedendo una ottima Inter a prescindere se dovessi fare un bilancio di questo primo tempo se andiamo a stringere l'Atletico ha segnato per un errore nostro. Non è che si è costruito queste grandi occasioni. Abbiamo sbagliato tanto dietro, tanta superficialità, tanto errori da parte di Barella. Mario il pareggio però è giusto, non credo stia stretta all'Inter. Ci stai, ci stai. Ma è giusto. C'è quello che sto dicendo. Comunque l'Atletico ha fatto cose. Sì, ma noi stiamo giocando in trasferta contro una squadra che deve sicuramente recuperare. Gli abbiamo fatto gol prima di loro e abbiamo preso un gol per un errore nostro. dopo quel gol hai sbandato. È un errore individuale, non ha sbandato la squadra, ha sbandato il singolo. Dopo il gol. E ci mancherebbe. Quell'occasione di Griezmann è clamorosa e il salvataggio di Pavard. A me dà fastidio il fatto che forse siamo un po' abituati troppo bene forse anche con l'Inter. Però c'è il fatto che la fase propositiva l'ha fatta bene anche oggi quando ha provato a ripartire anche se è mancato un po' l'ultimo passaggio. Mentre in fase difensiva io non ho paura dell'atletico ho paura dell'Inter che sbaglia. È un po' leggero Pavard un po' dietro poco finito. Non stai vedendo l'attenzione che ti aspettavi. No, no. Antonio, che dici tu? Sono d'accordo con questa chiosa di Michele. Nel senso mi sarei aspettato un atletico così nelle diverse fasi del primo tempo. Chiaramente nonostante quella tranquillità che ha ritrovato in alcuni frangenti l'Inter avrebbe dovuto credere molto di più e fare qualcosa di più semplice e lineare ma appropriato. Cosa voglio dire? Una squadra un po' più compatta non dico più difensiva cioè messa dietro la linea e il pallone con tutti i 11 giocatori ma un qualcosa di più pulito nella ricerca anche dopo il vantaggio ecco forse dopo il vantaggio che è durato talmente poco quella è la grossa pecca dell'Inter questa sera che poi si è schierata male dietro come è stato già sottolineato però anche rispondendo agli errori i gol sono sempre figli di errori dei singoli fondamentalmente anche dall'altra parte e diciamo che se sostanzialmente è giusto il pareggio probabilmente pareggio più un più un punto in più all'Atletico Madrid che pur nella confusione del suo gioco ha messo in campo le sue caratteristiche cioè le caratteristiche che poteva mettere in campo questa sera sarà una bella cioè che fosse una bella partita me lo auguravo che possa restare una buona partita assolutamente sì perché adesso devi far uscire sia l'una che l'altra quello che realmente sanno fare ecco è venuto per l'Inter a mio avviso è venuto a mancare qualcuno capace di rimettere tranquillità ma vera tranquillità con le giocate semplici con il lancio e probabilmente non sono stati neanche aiutati in mezzo al campo dagli attaccanti non so ho avuto dei fresh di questo tipo ecco Michele allora andiamo un po' sui singoli così cerchiamo di capire chi è andato bene e chi invece è andato meno bene vai con gli up and down naturalmente io almeno per il mio metro di giudizio per me i gol ci sono due scuole di pensiero quelli che dicono conta la prestazione al di là dei gol io dico che invece comunque i gol nel calcio non sono per niente un dettaglio quindi tendo ai gol gli assist aumentare un po' i voti come parto da Di Marco 7 che ha segnato e si è inserito molto bene ha calciato di destro nel suo piede bene molto bene nell'azione del gol quella stiamo rivedendo adesso è un'azione bellissima molto bella sì classica dell'Inter con tanto possesso palla per andare a stanare gli avversari Lautaro che viene incontro e poi l'accelerazione in verticale soprattutto a sinistra sull'asse Mkhitaryan bastoni Di Marco in questo caso Barella che ha tagliato da destra così che Di Marco al contrario invece è andato verso il centro e non l'hanno seguito gran gol adesso rivedendo insomma e quindi Di Marco 7 poi diamo un 6 e mezzo a Mkhitaryan che dei centrocampisti mi è parso il più lucido e do anche però 6 e mezzo a Lautaro perché secondo me l'Inter non può prescindere da un paio di giocatori che dicevo prima sono Acerbi e Lautaro tu hai visto un bel Lautaro stasera sì perché va ad aiutare la squadra lo vedo quando vedo che la squadra non ha dei punti di riferimento un po' si abbassa lui va in mezzo alla battaglia e cerca di recuperare palloni quei palloni recuperati dall'attaccante che viene dietro ad aiutarti danno coraggio un po' a tutta la squadra secondo me è fondamentale Lautaro in mezzo al campo e anche per questi palloni che ha respinto nell'area dell'Inter più che in attacco poi dietro è troppo facile perché allora con quel salvataggio gli alzo di mezzo punto ma gli do 4 e mezzo a Pavard veramente non mi è piaciuto per niente ne ha sbagliate almeno tre di occasioni quindi 4 e mezzo a Pavard in questo primo tempo e poi metto Dunfriss 5 e mezzo perché è vero che è andato bene nello spazio però poi ha fatto bene tatticamente ma ha sbagliato tecnicamente quei due palloni gridano vendetta uno in diagonale troppo male sulla respinta l'altro erano 3 contro 3 ha sbagliato il cross corto quindi 5 e mezzo anche se la scelta di Inzaghi tatticamente stava pagando sul terzo allora potevo mettere Barella però poi si è fatto perdonare con quell'esterno a me non ha fatto impazzire non è piaciuto tantissimo il primo tempo di Turam è vero Turam un po' leggero da Turam io mi aspetto per fisicità più presenza nella difficoltà no ma troppo leggero la linea 5 e mezzo anche Turam si raccedia e più intelligenza tattica cioè ha giocato così un po' cioè uno come lui su un pressing feroce deve metterci il fisico tenere palla prendere fallo far salire la squadra invece spesso si è perso secondo me Turam per il potenziale per la qualità che ha avete ragione però secondo me da Cialanoglu mi aspetto molto di più è sparito dalla partita non ha inciso però ha mandato in porta a Dunfrid se Dunfrid fa gol diciamo lì 45 minuti però guarda che Turam ha dato veramente poco ma ci aggiungo anche Cialanoglu che è un calciatore di livello oramai lo sappiamo internazionale lui dice di essere uno dei migliori tre del mondo lui dice addirittura il migliore davanti a De Bruyne davanti a Rodri poi non è un regista perché no no ma infatti lo avevano paragonato i cinque erano Rodri del Manchester City Enzo Fernandez del Chelsea Kimmich del Bayern e c'era del Real Madrid avevano messo Cross e quindi lui io lo metto dietro Rodri dico la verità perché c'ha più fisicità anche fase di interdizione però secondo me ci sta nei primi tre e quattro del mondo oggi Cialanoglu quindi se le aspettative altissime ci sta anche però quei tre li ho visti insufficienti mentre Cialanoglu sei sulla sufficienza ha fatto cose buone però in questo tipo di partita anche Anci devi trascinare di più sei d'accordo con questi giudizi cambieresti qualcosa? no sono d'accordo forse ecco su Cialan un po' di leggerezza non so se perché ecco qualche tacco di troppo ma lui è così lui è così nel bene nel male questa partita non ti può permettere di essere così dicevo proprio a Mario prima soprattutto per come avete detto prima voi per le caratteristiche che lui può mettere in questa partita questa partita io sono ottimista che nel secondo tempo farà la differenza Turam quindi seconda previsione della serata Turam nel secondo tempo farà la differenza ricordate con la Roma io gli avevo dato 5 e mezzo con la Roma nel secondo tempo ho dovuto cambiare perché fu decisivo come entrò però per dire con il Bologna nell'ultima partita ha perso un pallone Bastoni si è arrabbiato molto e lui poi alla fine si è messo a ridere in un'intervista perché uno che riesce anche questa è anche la sua forza perché lui non entra mai in tensione non soffre le partite importanti però dall'altro lato è poco cinico gliel'ha detto anche De Champi il nazionale se vuoi diventare l'erete di Giroud devi diventare un numero 9 devi essere cattivo in area di rigore allora quando gli hanno chiesto cosa perché con Lautaro si è creata questa fratellanza questa coppia che sono molto affiatati dice cosa può cambiare Lautaro in meglio secondo te ma a volte può ridere un po' di più gliel'hanno chiesto a Lautaro dice sai che Turam ha detto che devi ridere di più ha detto e lui può ridere di meno allora io sono più del partito rendi l'idea sono più del partito di Lautaro nel senso che ripeto se vai in casa dell'Atletico Madrid c'è poco da ridere ridiamo alla fine quando finisce la partita poi è vero che il gol dell'Inter è di una bellezza che anche quel saper così giocare la palla viene dalla qualità di giocatori così Bastoli Michi Italiani Di Marco in occasione del gol se hai visto la ripartenza erano 4 dell'Inter contro 3 dell'Atletico cioè e giocatori che cambiano la posizione perché c'è Barella che va a creare la superiore a sinistra e dimanche ho visto la bruttezza del gol dell'Atletico Madrid che fa 1-1 cioè poi il calcio è anche questo no? perché non mi è sembrato un'Inter bella come ce la state definendo almeno da come la intendo io sicuramente è molto diversa dall'Inter che gioca in campionato una partita diversa ma io devo contraddirti perché ero allo stadio Inter-Atalanta e il primo tempo di Inter-Atalanta era così era esattamente questo il primo tempo diciamo che la posta in palio è diversa certo però non è vero l'Inter ha dimostrato nei primi tempi sempre di soffrire un po' le avversarie nel secondo tempo è sempre cresciuta e ha sempre fatto gol mi auguro che anche quest'oggi sia l'occasione giusta per ribadire tutto ci sono stati dei buoni sprazzi di Inter ci mancherebbe sarei stato un po' più severo su Lautaro e su Cialanoglu effettivamente anche se concordo il giudizio su Turam cioè ci sono momenti in cui i protagonisti quelli che sono in fiducia devono capire che è un momento in cui magari qualcuno sta dando meno e bisogna dare quel qualcosa in più quell'aspetto che magari arriva anche con un po' di maturazione o con un po' di tranquillità in più mentale è una partita complessa da giocare verissimo l'abbiamo detto all'inizio praticamente tutti è strana la prestazione di Pavard proprio io non me l'aspettavo assolutamente non ha mai fatto una partita di questo tipo c'è 3-4 errori dietro forse la peggiore da quando è l'Inter di solito il campione sbaglia e poi si mette in carreggiato magari fa un secondo errore ma non 3-4 un gol l'ha salvato dai ecco poi ha fatto quel bel salvataggio molto bene mi aspetto comunque i soliti 5 cambi di Inzaghi sia Frattesi sia Cerbi forse anche Sanchez però lì è da capire un po' come è risultato e Turam come sta perché Turam ha ragione lo diceva Angelo che questa è la partita di Turam perché negli spazi loro alla fine l'1-1 non gli sta bene e poi vi dico perché secondo me nel secondo tempo Turam farà la differenza ma lo dico dopo Diorente la palla indietro Griezmann il tiro la parata di Sommer in due tempi e poi si metta sul ramo nella bocca bravo Sommer Bravissimo occasione clamorosa per l'atletico Magic qua Diorente supera con un lob molto bravo Di Marco la mette al centro non so perché Griezmann ha tirato sul primo palo dove c'era Sommer questo è proprio un errore di Griezmann secondo me sì però si confermano la difesa si perché ha tirato sul palo di Sommer cioè se tiri sul secondo palo è difficile che Sommer la possa prendere anche perché era lì con la gamba sul primo Sommer dove poi è sceso non so se lo avrebbe fatto in tempo però ancora una volta la marcatura è precisa ora Di Marco per Mkhitaryan siamo dall'altra parte Mkhitaryan a sinistra può entrare in aria di rigore con Gio Rente che ritorna Mkhitaryan è un po' disturbato e si lascia anche un po' spingere via e qua è molto bravo il giocatore dell'atletico Mkhitaryan speriamo non sia un po' stanco adesso è uscito anche con il Bologna di solito lui e Barella sono i polmoni di questa Inter corrono tantissimo Barella se pensiamo alla partita dell'andata però lì ancora una volta c'è Griezmann da solo ho capito che Di Marco si è fatto superare troppo facilmente però più attaccati in aria gli uomini io vedo delle marcature un po' allegre stasera in aria non mi dà l'idea di solidità Lino che attacca a sinistra ottavo minuto nel secondo tempo ancora da Griezmann in aria di rigore sul sinistro il cross troppo lungo per tutti allora Di Marco può spazzare via lo fa però in posizione centrale la regala all'atletico De Paul palla in mezzo sbaglia anche De Paul e quindi reinvia De Vrij ancora però Savic che alimenta l'azione dei Colcioneros che attaccano Inter che per ora si posiziona dietro la linea della palla e il cross che arriva da destra respinge Pavard Barella la deve mettere a terra non sbagliamo lì che non è difficile bravi Cialanoglu e Barella il triangolo esce l'Inter con Turam palla a terra Turam in mezzo a due la larga palla che viene sporcata e quindi la recupera male qui Turam sì poteva giocarla molto meglio però l'Inter qua sta perdendo il centrocampo la vedo un po' è soltanto a girarsi attenzione a Griezmann che se la porta sul sinistro allarga per Morata che si deve girare De Vrij non lo deve far girare respinge ma c'è ancora Morata chiamano la palla i suoi al centro Pavard di testa respinge in fallo laterale però il centrocampo fa arrivare troppo facilmente al ridosso dell'aria ci vuole un po' più di ma perché non tieni palla quando in uscita non tieni palla né Turam né i centrocampisti sinceramente anche Lautaro io tu gli hai dato un 6 e mezzo ma io finora l'ho visto pochissimo Lautaro Martinez adesso stanno soffrendo lì davanti perché il campo diventa lungo 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 se giochi così basso attenzione ancora all'Atletico con Cialanoglu che respinge c'è Turam io spero di avere sbagliato l'impressione perché ora Lautaro prova a ripartire però quello sguardo di Mkhitaryan quando è stato un po' spinto via non mi è piaciuto nel senso che io Barelli e Mkhitaryan sono abituati a vederli che non si fermano mai ecco ora c'è Cialanoglu che prende un bellissimo fallo questo è un bellissimo segnale invece c'è di un giocatore che ancora con personalità e lucidità tiene la palla subisce fallo e quindi guadagna la punizione e fa respirare la squadra e poi sì anche a me dava questa impressione anche una considerazione di squadre molto lunghe quelle che sanno che un po' perché ti viene a mancare la benzina un po' nelle gambe siamo al settantesimo un po' perché la partita potrebbe forse magari se lo augurano quelli dell'Atletico prolungarsi giocata giocata sapendo di dover sbagliare di fare la cosa più semplice e di non sbagliare la domanda però è questa ma che tipo di coraggio bisognerebbe avere o forse ho già dato la risposta con le considerazioni fatte a mettere uno tra i migliori centrocampisti come frantesi perché là in mezzo ce n'è qualcuno che magari potrebbe essere messo da parte per aiutare l'Inter forse anche a gestire meglio la palla in mezzo tu dici il coraggio nel togliere uno di quei tre più che altro no c'è la Noglu non c'entra niente perché c'è la Noglu un altro ruolo i due sono o Barella o Mkhitaryan quelli sono e sono due big è chiaro questo Barella secondo me sta ancora bene fisicamente e Mkhitaryan ripeto è lago della bilancia dal punto di vista tattico spesso però in questo secondo tempo Mkhitaryan qualcosa l'ha fatto vedere eh no ma anche quando per esempio c'è da fare alcune chiusure lui te lo ritrovi pure nella tua area mentre Frattesi è uno da inserimento però è anche vero che stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto partite di questo livello tante volte nella loro carriera mentre invece Frattesi scusa Mario ancora con Mkhitaryan per Di Marco Di Marco il cross è buono sul secondo palo per Barella anticipato da Ermoso ma c'è ancora Barella lì vediamo se recupera palla Ermoso sbaglia e quindi Barella recupera la dà dunque troppo forte ma come si fa a sbagliare questi passaggi semplici ancora Inter in pressing però fallosamente quindi punizione che peccato però lì c'era una superiorità a destra e quindi si perché ha Cialanoglu? si è arrabbiato De Paul con Cialanoglu niente niente ha fatto bene però qua Barella ha sbagliato una palla facile Di Marco aveva messo comunque un pallone interessante in aria poi Barella ha vinto il duello con Ermoso meglio Ermoso ha sbagliato e poi Barella facile facile gliel'ha data il primo cambio della partita però è Simeone che lo fa e Simeone entra Angel Correa il numero 10 il numero 10 è bello che il ah no due cambi anche De Paul quindi potrebbe uscire anzi esce De Paul e entra Correa ancora è più offensiva eh sì molto più offensiva vediamo esce Lino ed entra Richelme forse vediamo un po' Sì Richelme esatto quindi esterno sinistro per esterno sinistro ma attenzione sbilancia la squadra Simeone ma ragazzi d'altronde sta uscendo l'aggetico Correa per De Paul quindi rimangono a centrocampo Coca e Gliorente che comunque sono i due più corridori De Paul non era dato pure lui al 100% così come anche Coca si vede e quindi rischia il tridente tanto Chris Mann sa fare benissimo il trequartista sarà lui a venire più dietro con davanti anche Correa se vogliamo un trequartista seconda punta con Morata riferimento in avanti i segnali diciamo sono buoni nel senso che l'atletico non è brillante ce l'avevano descritto così a Cerbi e Darmian arrivano i cambi anche per l'Inter proprio a Cerbi e Darmian come li abbiamo chiamati secondo me escono no esce Dunfris quindi non esce Di Marco esce Dunfris esce Bastoni questo l'avevo previsto a Cerbi per Bastoni mentre Darmian mi aspettava al posto di Di Marco esce Dunfris un po' sorpresa ruolo per ruolo insomma forse Di Marco sta ancora bene perché adesso ha messo una bella palla in mezzo ma io ho la fisicità di Dunfris però hanno appena sostituito lì è uscito lì questo ci sta secondo me attenzione palla che resta lì poi esce dall'aria di rigore e c'è Witzel che la controlla perché vuole la rimessa in attacco no alla fine tiene il pallone e quindi lo fa girare all'indietro ora attacca pieno organico l'Atletico Madrid Savic la butta nella mischia Inter che ora può ripartire attenzione con Lautaro c'è anche Turam che accompagna sono solo due però due contro quattro arriva anche Cialanoglu a destra Lautaro vada Turam Turam entra in aria sul destro ma no il punto di Turam che si dispera e Inzaghi che dice no da lì devi fare gol se lo divora Lautaro il gol della qualificazione se lo mangia se lo mangia Lautaro qua mi ha ricordato che ne so Carlito Stevez non veloce ma ha aspettato il momento giusto non puoi non puoi non prendere la porta Turam solo davanti erroraccio a Oblak un po' defilato mamma Furibondo Inzaghi Arrabbiatissimo perché qua deve tirarla raso terra ma poi può anche andare avanti se vuole può far tutto è davanti all'uomo intanto vi do il 2 a 0 del Dortmund contro il PSV gol di Fulkrug e quindi ha meno di un quarto d'ora dalla fine insomma la qualificazione per il Borussia è vicinissima la palla della qualificazione poteva essere questa la palla della qualificazione speriamo che non sia gol sbagliato Cialanoglu recupera palla però è confortante che anche l'atletico non ce la fa più sono due squadre quindi l'atletico con Witzel che rimane in campo 35 anni difensore dalle leve lunghe lento se l'Inter trova un contropiede uno fatto bene vai a affondare il coltello nel burro dietro attenzione perché stanno entrando altri due giocatori nell'atletico stanno per entrare credo Depay Depay sicuro e poi il numero 24 Pablo Barrios quindi forze fresche a centrocampo lo dicevo che centrocampisti anche Coche non veniva dato al 100% alla vigilia nemmeno dei colleghi di Madrid quindi Depay è già uscito l'altro è Coche vediamo se toglie proprio il capitano comunque Barrios è un centrocampista giovane di sostanza e l'altro invece un attaccante toglierà forse Griezmann non ce la fa più Depay dietro le punte non credo che toglierà Morata Griezmann torna dall'infortunio intanto il tempo passa e questo è buono però giocare con il tempo non porta mai bene quindi bisogna puntare a giocare a segnare l'Inter sta lasciando un po' troppo la palla adesso all'Atletico Savic controlla siamo però lontani dalla porta bene così giropalla dell'Atletico Madrid l'Inter dietro la linea della palla ancora l'Atletico l'Inter che prova a togliergliela questa palla c'era quasi riuscito Di Marco poi però attenzione a Morata Morata Griezmann Barella ci mette il piedino arriva Turam che conquista la punizione bravo Tupus questo è giallo però questo poteva essere giallo ma dice di no Marciniac per Coche conquista la punizione però Turam che ora è un po' dolorante dai dai qua bisogna stare attenti anche agli infortuni ma questo è giallo eh sì qua ci potrebbe stare gli ha dato un calcio proprio pieno diciamo ecco a proposito di divergenze con gli arbitraggi in Italia qua lo diamo per scontato il giallo invece no è scemorata è stato annullato intanto il gol al Dortmund quindi 1-0 entra Barrios per Molina che abbiamo visto veramente poco stasera a destra ha perso il duello con Di Marco entra Depay per Morata quindi non Griezmann quindi tre attaccanti mobili con Correa con Griezmann e adesso anche Depay anche la classe di Depay per Simeone per giocarsi tutte le carte le ha messi tutti un po' quelli che aveva a disposizione adesso ci proverà negli ultimi dieci minuti più recupero anche ad alzare il ritmo con Barrios stanno per entrare Frattesi e Bissec Bissec per le palle alte dietro per avere più sicurezza con Acerbi e Bissec e poi vedremo l'altro ingresso attenzione all'Atletico il colpo di testa alto fuori no la palla rimane in campo e spazza ancora l'Inter con Lautaro che combatte in mezzo a due non riesce però a tenere la squadra alta e allora ancora Atletico di Madrid con anche il Correa bravissimo Mkhitaryan a tenere questo pallone ora c'ha la Noglu che è indeciso c'ha Acerbi poi la butta via lontano bene per Barella c'è tutto solo a destra Darmian vediamo se lo vede no cerca Di Marco è più facile alla linea di passaggio a sinistra Di Marco forse adesso l'ho visto Darmian che deve tornare indietro perché il passaggio è un po' corto ancora Darmian che rallenta però con Lautaro vuole tenere la palla il capitano Lautaro destro-sinistro destro-sinistro tiene la palla bravo e ora vediamo che cosa sceglie però perché in Teckel gliela portano via e rimane a terra Lautaro in modo pulito gliela portano via un po' stanco adesso capitano dell'Inter poteva darla prima via si la doveva dare si sta stancando per nulla secondo me lì Di Marco per Darmian dovevano darla più in profondità anziché all'indietro attenzione ora a Richelme che attacca Darmian sulla sinistra contro la destra dell'Inter entra anche in aria di rigore l'Inter tutta in aria che cerca di fare muro respinge ora con Acerbi riparte Turam ancora Acerbi che fresco porta la palla avanti troppo avanti e quindi la perde ancora ora Gliorente che va per vie centrali con Griezmann attenzione Mkhitary respinge ma ancora Griezmann Griezmann di sinistro respinge De Vrij con le mani dietro al corpo per non rischiare niente ancora Gliorente Orangel Correa che punta di Marco pericolo Correa la palla al centro respinge ancora Darmian e poi meno male l'Inter qui si salva pericolo in aria arriviamo nell'aria piccola a respingere ancora Gliorente con Correa dal fondo il cross Acerbi in calcio d'angolo ora si soffre si soffre si soffre Correa qua ha cambiato passo la messa in mezzo De Pai si è girato Darmian providenziale in due tempi poi respinge De Vrij ancora atletico di testa fuori ancora la difesa dell'Inter Lautaro che ruba palla riparte l'Inter in contropiede con Lautaro e Barella che è velocissimo Lautaro non ha Barella troppo corto ma Barella c'è Barella sul destro Barella carica in destro il tiro centrale centrale per on-back ancora una mano l'Inter grazie all'atletico in contropiede Crampi per Barella che rimane lì a cercare di fare un po' di stretching Crampi per Barella che si è buttato nello spazio 81 minuti e 20 secondi credo che sia arrivato il momento di frattesi stavano entrando comunque Lautaro ha dato due palloni veramente mettendo però questo Mario non proprio bellissimo ma poteva dare un po' più a sinistra ma no gliel'ha dato con i giri contati ma ha dovuto fare un po' il giro lungo Barella è vero che poi era più veloce negli spazi adesso si aprono le praterie ne abbiamo sprecate già due attenzione all'atletico che ora entra in aria da sinistra ancora Richelme per Depay Correa Pavar che guadagna l'angolo l'atletico quindi ancora calcio d'angolo Pavar però qui almeno non si è fatto superare ci stanno facendo rivedere guarda che palla Lautaro bellissima bellissima un po' più centrale ho capito ma è lui che se l'è spostata poi però Barella veniva da sinistra dovevo fare tutto il campo in diagonale però no poi ho visto che il difensore ho visto il difensore dell'atletico in effetti forse l'unica traiettoria era quella calcio d'angolo siamo entrati nell'ottantatresimo calcio d'angolo per l'atletico la destra di Sommer Lautaro che riesce a respingere i due numeri 10 in aria di rigore questo fa capire la partita il 10 dell'Inter l'attaccante Lautaro nella nostra area e ne è entrato anche il Correa nell'area all'atletico è tutto in avanti o si approfitta in contropiede o si rischia fino alla fine ora Turam può ripartire colpo di tacco per Barella o fino all'ultimo per i colpi di tacco Barella alla sua sinistra per Di Marco stanno per entrare Frattesi e Bissec la prossima volta che la palla uscirà saranno i due cambi ora Di Marco Inzaghi che dice teniamo palla qua teniamo palla sono veramente stanchi c'era da segnare ma lo dovevano fare Turam soprattutto e poi anche Barella due delle occasioni soprattutto Turam soprattutto Turam quella di Turam è proprio un'occasione molto molto importante aveva la possibilità di darmi ragione non me la dà se infatti ti ho guardato mentre Turam l'aveva detto vedi prima o poi però l'Atletico Madrid con Depay dopo un palo dell'Olandese ora è arrivato il vantaggio dell'Atletico Madrid a quattro minuti dalla fine l'Inter aveva messo anche Bissec dietro vediamo la palla in aria e qua De Vrij veramente si addormenta bravissimo Depay però De Vrij qui dormi e poi hai fatto bene a raccontare perché mentre eravamo in pubblicità un minuto prima l'Atletico aveva avuto un'occasione colossale con un palo clamoroso che non c'erano tra l'altro ancora fatto neanche rivedere perché non c'è stato tempo però adesso il tema è un altro è che in questo momento tutto è in parità quindi non è ancora finita no però ragazzi io ve lo dicevo ma il vantaggio non c'è più ecco Acerbi non ha mai fatto girare uno così l'Inter ha perso uno scudetto perché si è girato Girullo diciamo se ma non solo tante altre volte Acerbi al centro da un'altra sicurezza qua De Vrij lo marca 10 metri imperdonabile gli ha fatto tre movimenti comunque Sì ma De Pai è rapido lo devi francovolare devo dire che i cambi di Simeone hanno pagato perché Correa freschissimo ha creato problemi De Pai prende prima una bolgia una bolgia il Civitas tutti a saltare tutto lo stadio che salta forse i cambi di Inzaghi non hanno funzionato altrettanto bene però ne parliamo dopo diciamo l'Inter come si è messa l'Inter si è messa con Pavara a destra esterno destro Darmian è andato a sinistra difesa con Bissek De Vrij a Cerbi a centrocampo Frattesi Cialanoglu Michitari andavanti Turam Lautaro l'Inter ha un altro cambio e ne ha due se si va ai supplementari ora mancano due minuti più recupero ma l'Atletico ci crede con queste tre punte rapide mobili e l'Inter che stanca un po' sulle gambe attenzione all'Atletico ancora in aria di rigore con Angel Correa che se la mette sul destro poi ci ripensa allarga a sinistra pericolo ancora hermoso palla in aria Sommer deve uscire la sbanaccia la mette sul giocatore dell'Atletico il tiro palla che resta lì ancora in aria con Angel Correa che la mette a campanile Sommer esci non la prende ancora frattesi di testa due volte poi la spazza via Pavard mamma mia sofferenza proprio d'altri tempi palla che ballon solenaria di rigore Vieri e galante inquadrati in tribuna un po' attapirati un po' come noi perché il gol arriva nel momento peggiore io ci credo ora Cerbi tutti ci dobbiamo credere per forza ora Turam con Cialanoglu riparte l'Inter che ricordo si è mangiata due volte il gol del 2-1 soprattutto Turam lo puoi tirare fuori ogni tanto cartellino giallo fallo su frattesi il pallo è di coche però ragazzi quanto pesa quell'errore di Turam solo davanti al portiere sul 1-1 perché proprio è partita chiusa lì è partita chiusa lì era partita chiusa ma sì ma la marcatura ridicola qua veramente da squadra è vero però De Vrij da questa immagine si vede bene se l'è proprio perso ancora Inter in attacco gli ha fatto tre movimenti l'ha rincorso due volte la terza gli è scappato dai che magari arriva il golletto il cross per Turam ancora Darmiani in aria di rigore da sinistra cos'è? fuori gioco? ha fischiato un fallo forse fallo in attacco anche se mi sembrava fallo di Turam Koke Ammonito che dice calma 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 ho detto che l'Atletico quest'anno però attenzione i supplementari con Real Madrid una volta ha vinto una volta ha perso tra Supercoppa e Coppa del Re sì però per come si era messa la partita andare i supplementari poi magari l'Inter li passa però in questo momento è in questo fisicamente purtroppo io sono preoccupato dei supplementari fisicamente attenzione Michi che c'era ancora Michi Italiana break dell'Inter con Turam che deve dare tutto quello che ha su questa palla la palla al centro respinge Witzel c'è Frattesi da quest'altra parte troppo lungo però per Frattesi tre minuti di recupero che peccato proprio perché prima del palo e del gol l'Inter stava soffrendo perché era bassa ma non aveva preso tiri pericolosi però Depay Correa si vedeva che stavano creando più pericoli rispetto a Morata e come era prima l'attacco a due e là non ha letto bene De Vrij quel pallone mentre il tiro sul palo non è errore di nessuno perché fa una grande giocata attenzione Turam Lautaro che ci provano ancora ma Witzel spazza via la palla forse recuperata tenuto in campo no che sfortuna perché Darmian sarebbe rimasto solo adesso l'Inter è tornata alta e l'atletico fa fatica cioè perché Paolo decidere di abbassarsi così tanto con così tanto anticipo rispetto al finale ma tu dici decidersi per i cambi o decidersi per l'atteggiamento per l'atteggiamento ma sai secondo me l'atteggiamento deriva anche da una condizione fisica non eccezionale comunque quello è vero perché tu hai visto anche nelle ripartenze per esempio Barella hai visto come è arrivato stanco tipo avevi crampi secondo me la squadra è un po' stanca in generale vabbè Michele ovviamente diceva degli impegni ravvicinati è chiaro che ci sono per tutti comunque l'Inter quest'anno ha messo non dico tutte ma tantissime energie sul campionato energie mentale fisiche anche per questa seconda stella ed il resto con risultati visto lo strappo che ha tra sé le altre e quindi ci sta che sei un po' meno brillante ecco secondo me non è una scelta tattica è un po' più condizionato anche perché nei cambi si mi ora arriva l'ultimo cambio è Buchanan Buchanan che entrerà al posto di forse Pavard a destra questa è una insomma una prova del fuoco o forse al posto di Turam se Turam non è a più però lì metti Sanchez quindi io me lo aspetto più al posto di Pavard perché ormai Pavard comunque era stanco ora palla per Lautaro che cerca di tenerla in campo troppo lunga però per Turam vediamo un po' Buchanan al posto di chi entra perché Inzaghi poi vuole fare il sesto cambio se si vede supplementario ormai siamo al terzo minuto di recupero mancano 45 secondi che peccato però veramente bisogna sforzarsi per non pensare a quella palla di Turam perché si è mangiato veramente la qualificazione lì ora l'Atletico che ci prova ancora pericolo con l'Inter che è messa un po' male Griezmann entra in aria da destra marchiamo il tiro fuori si mangia la qualificazione anche l'Atletico speriamo sia un bel segnale Richelme la sparacchia alta questa pareggia nettamente quella di Turam ma guarda come era messo bene l'Inter tutta alta con Visse che va a chiudere non c'è nessuno a destra per tesi ritardo Richelme sbaglia lì sbagliabile ancora si gioca con l'Inter ancora alta ma cosa fate? Visse che è veloce meno male chiude poi Sommer para però hai visto che fatica l'Inter nell'indietreggiare cioè come è stanca hai visto? quasi è capito perché l'Inter si è abbassata non è a più è battaglia ragazzi quello che diceva prima non è una scelta non è una scelta è una roba che ti deriva ma si vedeva quando no anche perché i loro cambi lui ha messo gente di gamba è rapida Correa guardate Simeone al momento dell'errore però posso dire che l'Atletico non meritava il 3 a 1 cioè merita di andare i supplementari a te ma non meritava il 3 a 1 due gol di scarto in questa partita qua c'è anche il palo c'è anche il palo sì però l'Inter si è mangiato da due gol almeno uno clamoroso ho capito uno però loro hanno preso il palo prendi quello di Turan e questo qui poi c'è il palo beh in questo momento sta legittimando i supplementari ci stanno all'andata l'Inter si è mangiato da tre gol due clamorosi io dico nel complesso l'Inter non meritava di uscire nei 180 però se stiamo su oggi secondo me l'Atletico sarà un po' parato merita il 2 a 1 l'Atletico ha giocato meglio merita il 2 a 1 secondo me due gol di scarto non c'erano per le occasioni che ci sono state le possibili però negli ultimi 10 minuti le sensazioni hai in questo momento cioè adesso si ha quasi la pausa non so come dire l'amaro in bocca però in realtà la partita non è finita cioè l'Inter è in corsa e sono pari le due squadre anzi dobbiamo sperare che alla ripresa del primo tempo di supplementari entri un Inter diversa io capisco che c'è una difficoltà fisica perché la si legge anche Turan io avrei scommesso per un Turan diverso probabilmente il mister gli avrà chiesto di essere un Turan diverso era quello il motivo per il quale io mi aspettavo un Turan diverso perché la predica di Inzaghi avrebbe dovuto dare dei risultati e quindi di essere meno superficiale nel gioco è più concreto nella realtà probabilmente c'è una difficoltà fisica però fiducia fiducia fino all'ultimo assolutamente sì fatemi sentire Antonio che abbiamo recuperato Antonio è arrivato alla fine questo gol che rimescola definitivamente tutte le carte assolutamente sì chiaramente quando arriva in questi minuti un po' scoraggia la squadra che pensava come l'Inter di averla superata nonostante le difficoltà diciamo che qualcosa di più ha fatto l'Atletico Madrid anche se ha sbagliato ha sbagliato in precedenza l'Inter con Lautaro in maniera clamorosa ma le ultime occasioni hanno reso l'idea mi era piaciuta un po' la foto che era stata come era stata un po' rappresentata rappresentato questo secondo tempo ovvero una sfida tra due pugili due pugili non ancora sanguinanti ma dove un pugno avrebbe potuto abbattere l'avversario ecco nel caso dell'Inter avrebbe chiuso la partita ovviamente sul 2-1 per i nerazzurri nel caso cercato e comunque conquistato perché densità in area ne hanno avuta in questa ripresa gli avversari dico che sarà una partita dove adesso più che fino a questo momento salteranno un po' gli schemi servirà freddezza servirà calma ma neanche troppa perché chiaramente si cercherà entrambe le squadre di non arrivare ai rigori quella sarà l'ultima scialuppa eventualmente beh chiaro chiaro poi credo che no Mario ai rigori inizi a pensarci nel secondo tempo supplementare nel primo nel primo provi a fare gol sì però devo dire la verità che ho visto sicuramente una squadra come l'Inter che dopo aver preso gol ha ricominciato a far gioco non ha accusato il colpo più di tanto io mi aspettavo veramente una debacle totale e una squadra che magari avesse paura di ripartire da dietro e riproporre la propria azione la stanchezza la sta facendo la padrona però io mi fido tantissimo dell'Inter ho visto anche adesso a Cerbi che parlava con la difesa che si è preso un po' sulle spalle anche il reparto quindi boh confido tanto nella possibilità di fare un bellissimo supplementare sarà dura ma viene fuori la mia teoria che a Bologna io non avrei impiegato il massimo riposo per tutti quelli che devono giocare a Madrid a costo di perdere la partita chi se ne frega cioè con 13 punti sulla Juve e invece no Barella e Bastoni che adesso non ci sono nella partita più importante in Champions League ha fatto un 80 minuti e un 95 minuti a Bologna chi se ne frega io mi ricordo l'Inter di Mancini che fece il record 97 punti uscì col Valencia andò a Livorno e mise tutti i titolari avevo ancora i fantasmi di quella partita poi ho detto ha fatto bene Inzaghi dopo la partita perché alla fine è andata bene però adesso a vedere che la squadra è sulle gambe loro hanno tutti i dati il campionato era dai il campionato adesso 13 15 12 peccato perché l'atletico però stai già parlando come se l'Inter fosse stata eliminata adesso l'Inter ce la può fare l'Inter ce la può fare però ce la può fare con la grinta con le unghie con i denti con la palla inattiva ma non hai in campo però ha messo tre giocatori veloci in campo perché Fratesi è uno che si propone Bissek ha il passo l'abbiamo già visto in un recupero io Bastoni e Barella che hanno fatto la partita che ne so all'andata Barella perché non li potevo avere oggi perché devo impegnarmi a Bologna a Bologna metto chi non giocherà oggi Michele è scafato Michele è scafato si accorge ha un po' più di timore in questo momento lo capisco no no ma io lo dicevo prima di Bologna io ci sono i video ci sono i video Antonio lo dicevo prima di Bologna io non ero d'accordo con quella scelta di Barella non sto dicendo la considerazione sui cambi o su chi far giocare lo sai che tanto gli allenatori hanno le loro convinzioni e proprio sul grado di difficoltà che è aumentato al di là che si è arrivato in supplementari e pensavi di chiuderla prima ma proprio per la tipologia della partita perché restano due pugili e uno ne ha presi due pugni in più e quindi deve stare attento perché sai poi puoi sfruttare quello che non sei riuscito a sfruttare fino a questo momento lo spazio il contropiede quel briciolo di fortuna e precisione in più con un contropiede perché loro si stanno sbilanciando perché vorrebbero a casa loro vincere magari assicurarsi già qualcosa di importante in questo primo tempo poi ci sarà la gestione della partita e lì dipende dalle gambe dall'intelligenza e dagli scassi che concedi nel calcio di oggi Antonio quando c'è l'equilibrio chi ne ha di più di benzina chi gestisce meglio gli uomini è avvantaggiato in questo caso io spero in frattesi attenzione Turam frattesi che si inserisce Turam lo vede allarga a sinistra per Darmian che entra in area di rigore Darmian se la porta sul destro e ora allarga per Acerbi non è il suo piede il sinistro però poteva fare molto meglio ora Acerbi vediamo se riesce a guadagnare un angolo rimesso dal fondo vedi non avere per esempio Carlos Augusto metti il destro a sinistra e non ti fa la giocata facile Darmian ha alzato la testa non deve tornare indietro voleva portarsela sul destro non si è fidato del sinistro no no voleva passare ha alzato proprio la testa per vedere se c'era un compagno il sinistro non è sicuro lui doveva tirare può fare la giocata lui per questo hai tutti i nostri perché adesso confidate in frattesi e prima sembrava no perché l'avessi detto io no perché Barella poi ha avuto i grampi perché adesso confidate in frattesi che si poteva evitare magari quello quello strappo quell'espluadi di Barella perché non gestisci prima la partita in un altro modo no ma prima Barella stava bene tutti i geni poi sembra che mettere un giocatore di qualità sia una bestemmia no è giusto che giochi in Barella sì però si vede comunque ragazzi andiamo in cronaca perché adesso insomma è un momento molto caldo andiamo in partita e rientriamo nel clima del nel civitas metropolitano che è un catino bollente i 70.000 ma 3.500 anche tifosi dell'Inter 93esimo minuto cioè il terzo minuto del primo tempo supplementare Inter che ora prova a tenere un po' di più la palla con Bissek che però torna da Sommer Sommer che rinvia lungo il 2-1 che ha annullato tutto ripeto non ci sono più il gol in trasferta che vale doppio l'Inter nel passato l'ha pagato questo discorso adesso è 2-2 totale e i gol valgono tutti uguali quindi chi segna vince praticamente qua il 2-2 qualifica l'Inter il 3-1 qualifica l'Atletico se non segna nessuno ovviamente calci di rigore attacca ora l'Inter con Darmian finalmente rimette la testa fuori dal guscio l'Inter speriamo che anche l'Atletico possa essere un po' stanco anche un po' lungo e allora i freschi Gombissek che la mette il colpo di testa sbagliato di Darmian non facilissimo però non facile puoi prendere la porta però salta in anticipo ma non è facile far gol dai però Paolo non è facile magari far gol ma prendere la porta secondo me sì e sei completamente solo ma salta presto ha saltato un po' fuori sempre salta fuori te la colpisce anche bene quasi bene però la colpisce troppo col corpo verso il fuori girato malissimo girato malissimo è chiaro che non è clamoroso come quello di prima non si rende conto di essere solo però non si rende conto di essere solo secondo me non si rende conto dell'importanza della partita no dai non voglio credere in questo sto scherzando però dico ne ha fatto almeno 15 tacchi dall'inizio della partita si è mangiato due gol uno solo ante al portiere facciamogli una chiamata Marcus Marcus che si butta a terra non capisco che è successo Savic che si lamenta a terra come se avesse preso un coso c'è Spiliqueta che sta dicendo a Marciniac qualcosa indicando le mani bisogna tenerle a posto Turam le mani le mani bisogna tenerle a posto c'è un replay non so come dirlo televisivamente gli dà una strizzata vi ricordate Necruz Necruz con Inzaghi scherzati però l'altro che gli tira la maglia è lui che gli prende le parti basse questo è un gesto violento questo è un giallo secondo me cioè onestamente è gioco antisportivo questo è gioco antisportivo cioè qui il VAR non fa nulla boh vabbè no no ma non è che si espelle per una cosa del genere però possiamo fare i complimenti al giocatore dell'Atletico che non ha voluto insomma vabbè si è buttato a terra no sicuramente è bene però non ha esagerato perché ci fa sorridere però in realtà cioè questo è un gesto dai Lauti è un gesto estremamente stupido sono d'accordo oltretutto è un gesto stupido esatto perché vai a rischiare in un momento del genere della partita sì veramente ingenuo qui continua fino fin qui la partitaccia di Turam poi ripeto magari la decide lui c'è ancora tempo però aggiunge diciamo della stupidità che non ci vuole ma Cialanoglu è dolorante a terra ecco questo è proprio quello che non ci vorrebbe speriamo che Cialanoglu riesca a finire la partita perché è fondamentale insomma il suo saper tenere i ritmi in un certo modo anche se dovresti fidarti oramai di Aslani eh lo so però dai dai insomma c'è una differenza abissale tra Cialanoglu e Aslani però però se non ce la fa più i cambiari ieri Barcellona qui 2007 2003 sì la classe di Sanchez per esempio ricordando anche un po' che a Liverpool lui ha qualcosa anche da farsi perdonare fece bene sull'assist poi si fece spellere poi si fece spellere quindi secondo me Sanchez che sono le ultime cariche con Turam continua a ridere io veramente non ce la faccio che ride dall'inizio della partita ma ha sbagliato tutto lo toglie lo toglie finalmente lo toglie quindi qui insomma Angelo posso venire da te 4 te lo dico già 4 per Michele confermi speravo speravo di poter affidare a Turam l'esito della partita e invece se l'è mangiata questa partita e ha messo in difficoltà in questa partita purtroppo l'Inter e questo ultimo l'ha tolto anche per questa cosa qui questo ultimo gesto di stupidità denota che non ha la lucidità necessaria per giocare in questo momento partite di questo sembrava che questa partita non fosse mentalizzata non avesse il focus cioè faceva tutto molto leggero leggero colpi di tacco soprattutto il gol sbagliato di piede non quello di testa ma quello di piede poi magari Oblak fa il miracolo ma tienila bassa quella parte devi quantomeno prendere la porta ecco poi dopo poi lui tornava dall'infortunio tutto quello che volete però lui ce l'ha questo modo di giocare c'è il calcio bailato allegria attacco dribbling però adesso esagerato stasera troppo esagerato in più si è mangiato due gol Bissek palla al piede avanza bello lo scambio con Pavara a destra ancora Bissek vai Bissek che sei fresco allarga per Sanchez entrato il Ligno a destra il cross è buono attenzione Lautaro il colpo di testa che però non riesce a indirizzare verso la porta la palla rimane lì con Darmiana da sinistra che crossa di destro la palla respinta ancora Cerbi e quanto servirebbe un gol di testa adesso De Vrij ancora Inter con Cialanoglu palla troppo indietro come si fa a dargli la palla così e riparte l'atletico con Depay che è scatenato ancora Depay c'è De Vrij che lo chiude fallo e ammunizione ammunizione per il giocatore dell'Inter il fallo su Depay credo Cialanoglu ma qui il passaggio chi è che sono i diffidati mi chiede allora Michi Italian Frattesi Aslani e Lautaro ok Lautaro qua però è il passaggio che è sbagliato non è Cialanoglu che sbaglia riparte Depay ma io veramente non riesco a capire ma come si fa a fare un passaggio suicida così qua Cialanoglu deve spendere il fallo perché De Vrij nell'uno contro uno con Depay non volevo rivedere il secondo gol e stavamo andando da qui in quella direzione peccato perché era una palla a centrocampo in gestione dell'Inter palla orizzontale passaggio corto leggero verso Cialanoglu non so se è di Michi Italian lo devo rivedere chi è che ha sbagliato il passaggio però è un passaggio veramente da non sbagliare assolutamente break dell'Inter speriamo almeno ce l'auguriamo con Cialanoglu che va dall'altra parte c'è Pavar squadre lunghe ma l'Inter ci prova Sanchez che è uno di quelli entrati da poco e quindi può averne più di tutti da un bel pallone per Pavar ma no Pavar che poi però diventa un passaggio per Lautaro Lautaro che deve allargare a sinistra e sbaglia il passaggio cosa abbiamo sbagliato di tutto però ci sono tre errori in una mezza azione tre errori Sanchez fa una cosa bellissima Pavar sbaglia il passaggio anziché darlo in avanti lo dà l'indietro Lautaro sbaglia il passaggio sbagliano tutti fallo laterale ultima azione di questo primo tempo supplementare Darmian lunghissima in aria di rigore Acerbi non salta neanche saltano loro fallo in attacco e vabbè fallo in attacco e qui credo che finirà il primo tempo supplementare perché sono 108 minuti rivediamo il fallo se c'è di Acerbi ma si è buttato diciamo che in questi casi gli arbitri tendono a premiare le difese qua rivediamo l'ultimo tiro di Correa e finisce se era De Pai era il 2 a 1 come il gol del 2 a 1 finisce finisce quindi il primo tempo supplementare sempre 2 a 1 per la Terrico Madrid tra poco il secondo e Angelo la sensazione è che l'Inter sia molto stanca molto stanca assolutamente sì fisicamente noi siamo sotto rispetto agli avversari speriamo di guadagnare un po' di ossigeno in questo piccolo recupero e di entrare con un minimo di ossigeno per buttare dentro la palla nella seconda nel secondo metà tempo dei supplementari però devo dire che sono entrati bene sia Bissec che ha dato un tanto di pass Fratesi e Sanchez possono dare quella spinta e quell'ossigeno che è mancato in tutti gli altri giocatori ma la partita è davvero alla pari bisogna dire la verità fare i complimenti all'Atletico perché pensavo che non riuscisse a riproporsi fino a questo punto e a combattere fino alla fine è andata in vantaggio per prima ricordiamoci che l'Inter segna lo 0 a 1 al trentesimo del primo tempo dopo due minuti prende gol ma l'errore allora la partita ci può voglio pure dire che ci può stare l'1 a 1 anche se è un errore di Pavard uno può sbagliare l'errore tecnico ma nel secondo tempo la partita è che tu nel campo aperto con loro che si scoprono hai due occasioni una delle due la devi buttare dentro e vieni punito nel finale non puoi vedere la partita solo da una tua ottica ha preso un palo nel finale ha sbagliato un gol pazzesco prima dai non puoi dire poi nel finale l'Atletico ha sfiorato il gol ha segnato il gol ha sfiorato addirittura il 3 a 1 la telecronaca di ieri su canale 5 del Napoli dove il teleconista si fissava solo sul colpo di testa di Vistro sbagliato quando loro no Paolo stavo dicendo quando l'Inter la poteva vincere la poteva vincere sull'1 a 1 nella prima parte del secondo tempo e non ha sferrato il colpo giustamente però la potevamo anche perdere poi nel finale l'Atletico ha segnato ha meritato poi dopo la potevi perdere se poi la potevi perdere certo però all'andata ricordiamo l'Atletico 0 di riporso perdere l'andato oramai è andata è abituato troppo bene lui in campionato in Serie A quest'anno si è abituato troppo bene quando tocca un pallone diventa un gol al massimo il secondo qui c'è una grinta diversa da una squadra che esce che prova ad uscire da una crisi perché ci è arrivata non dico in piena crisi ma quasi e che ha messo ha messo in difficoltà l'Inter meritatamente in vantaggio però è un punto di vista entra Saul esce Griezmann e non ce la fa più Paolo eh no ma credo abbia male vedo che ci stacca la caviglia sì sì lui tra l'altro è stato recuperato a tempo di record proprio per questa partita e ha giocato finora ripartiti 19 e 40 119 e 41 119 e 42 calcio d'angolo palla in aria Sommer con i pugni non si fida della presa e rinvia lontano in fallo laterale 119 e 50 meno 8 meno 7 dai calci di rigore non so se sperare nei rigori o no ma ormai mi sa che anche se non spero arriveranno perché Marciniac fischia e si va ai calci di rigore dai 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 grandissima partita bellissima bella proprio da vedere molto molto per chi è emotivamente coinvolto come la nostra coppia o come o come angelo insomma la partita è tosta si va ai calci di rigore Paolo ma io me la sto godendo ovviamente me la sto godendo dico che hai visto le squadre come si allungano adesso c'erano stanche tutte e due l'Inter un po' più stanca l'Inter un po' più stanca vero il rammarico è che era stanca già dal secondo tempo non dei supplementari quando tu quattro giorni fa potevi mandarli tutti a fare la cicletta Sì ma Michele non c'è però la controprova che se tu risparmi a due o tre giocatori quelli che vuoi No no tutti io l'avrei mandato tutti quelli che dovevano partire dall'inizio l'avrei mandato in panchina in tribuna addirittura ormai è fatta ormai è andata così però diciamo che l'Atletico la poteva chiudere nei minuti finali l'Inter la poteva chiudere all'inizio del secondo tempo secondo me è giusto nel complesso considerando che l'Inter a San Siro gli expected goals erano 2 a 0 per l'Inter è finito 1 a 0 perché Arnautovic si è mangiato all'impossibile la sofferenza il primo rigore per l'Inter lo batte Cialanoglu Cialanoglu contro Oblak il numero 20 dell'Inter parte Ciala Gol! Gol! Grande Ciala grande una garanzia una garanzia una garanzia una garanzia gran bel rigore gran rigore a mezz'altezza alla destra di Oblak credo sia imparabile se lo batti così Oblak che intuisce anche se si intui ma non la può prendere l'ha intuito ma non lo puoi imparare mai l'ha intuito ma l'ha deciso puntato e messo sembrava quello di Totti con l'Australia il problema sotto l'incrocio forte angorato lo batte adesso proprio Depay ecco voglio gufarlo un po' così di solito i migliori in campo quando si va ai rigori poi poi può succedere che si sbaglia speriamo che vada così Depay contro Sommer parte Depay Dayan Dayan dai 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 parte Depay il numero 9 più centrale ma quasi simile ha sbagliato sotto la traversa e c'è Simeone che chiama lo stadio a non so sì le sulzanza ha bordata sotto la traversa non sotto l'incrocio diciamo che la tua gufata non l'ha proprio funzionato stasera Depay Sanchez se non è stasera Depay se va al casino vince miliardi Sanchez Sanchez il secondo rigore Sanchez che ha segnato in ha segnato quest'anno su calcio di rigore certo però in generale diciamo che non ha buone statistiche speriamo bene Sanchez contro Oblak tiro di Sanchez parata di Oblak attenzione purtroppo arriva l'errore di Sanchez che ragazzi non ha buoni numeri sui rigori però questi sono in campo anche l'Altaro non ha buoni numeri telefonato che peccato molle molle guarda che rincorsa piattone centrale centrale tanto che Oblak si tuffa molto più alla destra del tiro e poi con la mano sinistra la prende non dico a centroporta ma quasi a sto punto tira centrale caro Leone quest'anno aveva tirato bene un paio di rigori però ho detto che statisticamente ce ne ha sbagliati tanti anche l'anno dello scudetto Michele confermo purtroppo ha statistiche negative Saúl beh deve sbagliare chi che tira Saúl Saúl che è appena entrato Saúl contro Sommer tiro parata di Sommer bravo parata di Sommer bravo parata di Sommer bravo che ci tiene in vita bravo bravo che ci tiene in vita eh sì hai detto bene tiene in vita l'Inter Sommer perché uno a uno dopo due rigori una parata con i piedi vediamo tiro di Saúl di sinistro la parata di Sommer con il ginocchio vale tutto vale tutto l'ha buttata fuori e adesso l'ha tirato pure già Sanchez ma chi è che tira adesso Klasen tira Klasen ma davvero vediamo Davy Klasen lo chiamavano one nil man tira Klasen tiro parata di parata di ora ne prende un altro Black Klasen questo questo era calciato meglio di quello di Sanchez questo è stato bravo proprio Obra guarda Berti incredibile lo angola e Oblak la va a prendere questo ragazzi è il portiere più forte del mondo fin qui tre rigori calciati uno solo segnato però non lo batte bene sembrava meglio cioè oddio Oblak va in avanti e gli chiude no non era male non era male bel rigore però diciamo i rigoristi veri arrivano vedono il portiere dove va e la tirano mettono dall'altra parte invece loro sono tutti paurosi e la tirano senza vedere testa bassa perché lui tre rigori Oblak tutti e tre intuiti solo che quello di Cialano lo era imparabile e invece questi due dai come la Svizzera che eliminò la Francia agli europei dice Richelme contro Sommer un altro miracolo ci serve tiro di Richelme gol ciao 2 a 1 per loro dopo tre rigori e questo è tirato molto bene di Richelme va a spiazzare Sommer e quindi l'Atletico adesso è in vantaggio 2 a 1 dopo tre rigori e non so chi calcerà meno male che l'Inter ha iniziato la lotteria perché almeno hai diciamo fino alla fine la possibilità quando sei svantaggio di uno di poter sperare nell'ultima parata perché se lo batti dopo può finire pure col quinto che batte l'avversario Acerbi ragazzi questo è un rigore quasi decisivo quindi Lautaro evidentemente non lo so o vuole tirare l'ultimo o non sta bene Acerbi quarto rigore siamo 2 a 1 per loro va per il pareggio e per la speranza lo segna lo segna lo segna parte Acerbi tiro gol gol di Acerbi gol di Acerbi 2 a 2 centrale forte però efficace così dovevano batterli pulito pulito così bisognava batterli prima Sanchez senza guardare il portiere hai visto ha sorpreso Klassen che l'ha battuto come se fosse un giocatore impaurito un giocatore d'esperienza dai adesso tocca a Sommer adesso lo batte Correa sì è Correa numero 10 dai dai ragazzi questo è forte vero però crediamoci crediamoci dai Jan Sommer riportaci in vita il numero 10 dell'Atletico Madrid Angel Correa contro Sommer quarto rigore siamo due pari parte Correa tiro gol bellissimo l'avevo quasi vista alta rigore calciato benissimo qua siamo proprio mentre Angelo si toglie anche la giacca dalla tensione dei calci di rigore adesso l'Inter ha il quinto rigore lo deve per forza segnare altrimenti la partita è finita se lo segna deve sperare che però l'Atletico sbagli l'ultimo adesso credo che lo batterà Lautaro che abbiamo detto che non è un grande rigorista però non puoi da capitano non puoi da capitano non prenderti la responsabilità e lui se l'è sempre prese e anche oggi se la prende va a battere per il 3 a 3 se segna Sommer ci può ancora salvare se sbaglia è finita ultimo rigore il quinto per l'Inter che spera di andare a oltranza Lautaro contro Oblak parte Lautaro alto mamma mia che rigore ha tirato l'Inter è fuori dalla Champions ma che rigore ha tirato un rigore disastroso di Lautaro Martinez l'Inter è fuori dalla Champions League passa l'Atletico rigori calciati malissimo malissimo parte Cialanoglu e Aceri ragazzi ma Lautaro e Sanchez hanno statistiche drammatiche sui rigori se pure quando vai ai rigori non puoi cambiare i rigoristi però l'errore rimane quello ripeto di essere arrivato a questa partita con un secondo tempo 15 punti di vantaggio in campionato e non hai avuto le forze fresche l'Atletico lo dobbiamo dire l'ha messo sul suo binario è riuscito a portarla sulla partita combattuta fino all'ultimo e ci sta ci sta e dobbiamo fare l'applauso all'Atletico assolutamente sicuro se la vedi dal punto di vista dell'Atletico è una rimonta una rimontata come direbbero loro molto importante però c'è il rammarico forte perché hanno segnato il 2-1 questa partita ragazzi era in vantaggio al trentesimo del primo tempo è lì se tu gestisci Federico l'ha buttata all'andata perché doveva fare due gol al ritorno perché sull'1-0 non ha saputo difendere all'inizio del secondo tempo perché non l'ha saputo ammazzare alla fine della partita perché ha concesso a Depay di girarsi come voleva i rigori li hai sbagliati tutti non è che puoi passare contro i Santi però ripeto oggi l'Inter non abbiamo visto la migliore espressione di Inter stasera e questo è il rammarico io oggi volevo vedere l'Inter che giocava al massimo poteva pure essere eliminata invece l'hai giocata che sei grollato fisicamente anche loro erano molto stanchi però tu potevi stare meglio se la gestivi diversamente sabato proprio non voglio insistere su questo concetto perché io sono rimasto ancora al 2007 a Livorno-Inter uscimmo col Valencia uguale con un pareggio doppio pareggio però insomma il calcio è così i rigori sono crudeli però che cosa vuoi dire a questa squadra si è impegnata ha provato a gestire la partita a vincerla fino alla fine ha meritato l'Atletico e onestamente sui rigori non possiamo neanche dire niente sapevamo già che diciamo qualcosa a questa squadra non è che se vince diciamo che è brava se perde non gli possiamo dire niente non ha giocato benissimo con un avversario che in questo momento partiva sfavorito con tutti gli errori che avete elencato perché io so che i giudizi quando si gioca in Champions devono essere parametrizzati a quello che si vede allora l'andata ha giocato meglio è arrivata qui con un atteggiamento che doveva essere probabilmente anche diverso secondo me si possono dire tante cose mi pesa mi pesa mi pesa ma devo dire che hai ragione sei d'accordo Angelo purtroppo sì io non voglio infierire non possiamo dare il merito alla squadra avversario dobbiamo riconoscere dei demeriti che purtroppo in questa partita ci sono stati e sono stati tanti quali sono stati secondo te i demeriti dell'Inter una squadra che ha sottovalutato anche la partenza i primi sei minuti siamo andati in sofferenza una squadra che ha sbagliato troppi gol una squadra che ha concesso nelle loro azioni d'attacco degli spazi che l'Inter non è abituata a concedere cioè la difesa dell'Inter quegli spazi lì solitamente non li concede quindi non possiamo vedere i meriti dell'atletico e non vedere i demeriti di un Inter che solitamente quegli spazi la difesa dell'Inter non li concede ma sicuramente l'ha approcciata male però devo anche dire che passi in vantaggio 1-0 nonostante tutto quello che abbiamo detto e poi ti fai recuperare per un errore bada due errori individuali cioè capisci che prendi un cazzotto in pieno volto e poi diventa difficile ripartire l'Inter lo ha fatto è ripartita bene ha avuto le occasioni anche per far gol appunto parlavamo della differenza che c'è tra il campionato italiano e la Champions League l'Inter nonostante sia in Champions League è riuscito a produrre 3-4 palloni da gol pulitissimi che poi non ha finalizzato però a questi livelli riuscire ad andare in porta con il pallone con un uomo contro il portiere per ben tre volte e non metterla dentro poi alla fine la paghi come è successo con i rigori però non possiamo dire che l'Inter ha giocato male l'Inter ha giocato contro una squadra molto forte e si è dimostrata essere alla pari se non superiore per certi versi e sono cattivo Paolo se dico che stasera la differenza l'ha fatta anche Simeone rispetto a Inzaghi secondo me l'ha preparata meglio la partita l'ha anche gestita meglio con i cambi con i cambi sicuramente sì perché evidentemente cioè perché gli hanno dato molto di più e poi quando lui ha tolto magari gente un po' più statica davanti come Morata cioè che era magari facilmente intuibile ha messo gente di movimento come Correa come Depay lì ha messo in grande difficoltà l'Inter che secondo me cioè dobbiamo essere onesti cioè l'Atletico alla fine sulle due partite ha meritato di passare il turno perché adesso vabbè Michele dice l'andata le cose però tu guarda anche le occasioni dell'Atletico stasera e poi ha finito la partita molto più lucido in condizioni fisiche migliori non brillantissime perché comunque anche loro nella Liga stanno trottando però però alla fine l'Inter era sulle gambe troppo sulle gambe era troppo sulle gambe cioè ma anche ma anche nel posizionamento cioè non era lucida a livello mentale secondo me perdeva perdeva delle letture di passaggio cioè si è fatto infilare tantissimo purtroppo non è arrivato nelle migliori condizioni io dico che è un peccato ovviamente capisco quando Michele dice si poteva mollare un po' in campionato però guarda che la mission della seconda stella affidata ad Inzaghi è stata feroce perché le dichiarazioni di Zanga tra le poche dichiarazioni ha detto quello che ci interessa è la seconda stella no è vero però quando sei a più 10 più 12 più 13 la seconda stella ce l'ha in pugno lo stesso ma poi ha chiamato anche adesso perché voleva dare il premio in caso di passaggio con l'Atletico perché erano 25 milioni tra in caso in più però Inzaghi ti ha dimostrato di non smontare mai le squadre prima di appuntamenti importanti anche quando ha giocato con la Salernitana in campionato che era prima dell'Atletico all'andata l'ha fatto col Benfica e pagò nel secondo tempo di Napoli il Napoli era andato a Madrid l'Inter era andato a Lisbona e nel secondo tempo di Napoli il Napoli è morto e l'Inter ha dominato poi episodio non episodio il secondo tempo il Napoli è scopato qua avevi sto vantaggio clamoroso a Bologna tu fai la formazione per l'Atletico tutti gli undici non li metti in campo col Bologna hanno giocato tutti sono 65 minuti poi nel secondo tempo tu puoi pure dire li ho visti bene stanno bene e quindi li faccio giocare invece no perché nel secondo di oggi è venuta fuori la verità ma vedi anche le occasioni sbagliate secondo me lì è mancanza anche di freschezza fisica di lucidità Barella quando ha fatto quel calcio hai visto che ha dovuto fermarsi i Caleri Crampi quindi proprio fisicamente l'Atletico stava meglio e su queste partite dove poi l'emotività va anche a interferire sulla testa sulle condizioni fisiche e alla fine poi vabbè secondo me dagli attaccanti questa sera non c'è stata risposta cioè io sul banco degli imputati metto Turam per l'atteggiamento e le scelte per l'errore clamoroso e l'autaro ragazzi cioè mister 10 milioni di euro devi fare la differenza in partite così non è che non puoi però ha fatto due filtranti che sembrava la Playstation ha mandato in porta ai giocatori cioè a questi livelli mandare in porta ai giocatori sta parlando di al rigore il rigore è vergognoso però è quello che conta gli sbaglia tutti l'autaro filtranti ti posso dire io allora i rigori per me non è la lotteria come si vuole dire allora i rigori devi studiare gli avversari il portiere devi studiare i tuoi rigoristi io lo dissi anche in passato quando sono andati sul dischetto Sanchez e Lautaro l'Inter ha perso scudetto Milan-Inter 1-1 Tatarusano pari il rigore a Lautaro dopo che Cialanoglu l'ha segnato prima e allora continuiamo a tirare con Lautaro e Sanchez sperando che indovini un rigore l'hanno sbagliato quando Lukaku c'è detto un rigore a Lautaro ti ricordi con Conte e lo sbagliò lo sbagliò e poi l'Inter perse la partita cioè Lautaro dovrebbe probabilmente fare un passo indietro ma Sanchez ha una media peggiore di Lautaro scusate prima di ragionare sui rigori una squadra che un anno fa è stata elogiata giustamente perché è arrivata in finale di Champions è arrivata sulle ali dell'entusiasmo a questo appuntamento agli ottavi di finale se esce in questo modo vorrei che venissero ricordati i giudizi che sono stati dati alle squadre sono stati dati alle squadre italiane che uscivano in questo modo sbagliando di più arrivando con una media atletica più bassa rispetto all'avversario beh io Antonio l'ho detto l'atletico ma ricordiamoci come ci è arrivato l'atletico sulle gambe mentalmente psicologicamente l'ha approcciata in modo diverso quindi forse l'Inter l'ha presa anche un po' sotto gamba pensando di poter o una o la seconda fare il secondo gol non è stato bravo all'andata non è stato bravo al ritorno e quindi ci sono da dare dei severi giudizi così come le squadre italiane che uscivano agli ottavi di finale secondo me si ma Antonio io ho detto la stessa cosa io ho detto la stessa cosa cioè io ho appena parlato dicendo che l'atletico ha meritato e che l'Inter praticamente non ne aveva oggi certo e che non ne aveva oggi certo andavo sul no no dico ho detto le stesse cose secondo me è più simile Antonio a Juve Benfica perché tu hai fatto riferimento agli anni in cui perdeva la finale lì la finale è un percorso netto mentre lì mi ricordo la Juventus arrivò con qualche infortunio io parlo dell'Inter non poteva uscire agli ottavi con l'atletico in questo periodo preciso in semifinale con l'atletico che si riprende ma tu sei d'accordo che questa non è la migliore è una questione dei 90 minuti prima dei rigori ma tu sei d'accordo Antonio che non è stata la migliore Inter oggi al di là degli episodi singoli perdonami ma se stiamo dicendo da tre mesi che l'Inter era in forma smagliante tutto il 2024 solo vittorie 13 di fila mi pare allora era il momento ideale invece sì però sembra che stiamo parlando di una squadra che ha perso sul campo 3-0 4-0 con un approccio sbagliato l'Inter se l'è giocata fino al 120esimo e ha perso i rigori cioè questa cosa va anche detta ma ho capito ma è in vantaggio tu ma va anche detto che ha perso alla lunga meritatamente e che non era nelle condizioni migliori questo va detto non era nelle condizioni migliori fisiche perché si è scelto a Bologna di giocare con i titolari ma non è così scontato ma non c'è la controprova Michele non è che se tu ne cambi 7-8 stossera voli in campo no ma durano di più se il serbatoio inizia a essere più vuoto io non dico i Cialanoglu e gli Acerbi e i Turam che dovevano fare il tagliando ma Bastoni e Barella per dire sì però allora io ti dico Bastoni oggi non mi serviva dopo alla lunga non ce la faceva più ha giocato 95 minuti sabato nessuno poteva pensare che Arnautovic si facesse male ma io voglio Bastoni e Barella non Arnautovic a me Arnautovic oggi non mi serve cioè mi servivano Bastoni e Barella Barella l'ha andata sembrava che valesse doppio oggi Barella ha avuto i crampi e perché ha giocato 80 minuti forse ti ha fatto correre tanto forse ti poteva servire Carlo Saugusto tu dovevi Carlo Saugusto sono d'accordo allora tu puoi pensare che ti serve però infortuni ci sono infortunati tutte e due nell'ultima partita però l'infortunio ce l'hanno tutti ma io vedere Klasen che tira un calcio di rigore nell'Inter però Klasen dei tre errori è il meno brutto è quello che l'ha tirato meglio è il meno brutto e andiamo bene Lautaro e Sanchez sono bruttissimi Mario perché non critichi Lautaro critichi il poverino Klasen Lautaro e Sanchez sono i due rigori più brutti Lautaro è stato imbarazzante ha tirato Lautaro sì Lautaro peggio di Sanchez perché è alto almeno Sanchez ha preso la porta è scivolato non so se l'hai visto ha guardato anche la zolla di terra perché ha ceduto secondo me non ci credeva neanche quando l'ha tirato cioè è andato così insomma non mi ha dato l'impressione di essere convinto mentre lo tirava Angelo poi io non è che voglio tornare sempre lì però è che me lo ripropongono le immagini io continuo a vedere Turam solo davanti a Oblak sul risultato di uno a uno e quello anche cambia tu prima hai detto la decide Turam potremmo anche dire che l'ha decisa Turam in negativo però avrebbe potuto deciderla in positivo e invece ahimè purtroppo l'ha decisa in negativo questa è la realtà poi rideva troppo mi dispiace siamo troppo drasti Paolo ma sì perché poi Turam non c'era in campo nei momenti decisivi non c'era sembrava hai visto al circo quando devi fare il numero colpo di taco secondo me bisogna essere anche quando elogiamo a volte oltremisura o con merito uno come Lautaro bisogna avere anche il coraggio di criticarlo perché è il capitano ha delle pretese giuste anche di ingaggio e però in una partita così dai Mario non mi dire due filtranti anche Sanchez ha fatto un filtrante però Paolo non è che ha perso l'inte per Lautaro ha perso per Turam per Turam ha sbagliato il gol Lautaro gli ha dato la palla a Turam poi ha sbagliato il rigore il rigore è bruttissimo il rigore è scivolato però è l'unico dei quattro attaccanti rimasto in piedi ha fatto pure quel colpo di test avete un po' di timore reverenziale a criticare Lautaro ti dico le insufficienze te ne ho dette tante però dico uno che dà tutto io diciamo lo critico ma lo critico diversamente rispetto a uno che mi fa i colpi di tacco perde tutte le palle sbaglia a portavuoto cioè gli altri che Lautaro abbia dato tutto stasera anche no no Turam ha dato gli Duram ha dato tutto anche no secondo me nei momenti decisivi di una partita ci sono anche quando salti da solo in mezzo all'area di rigore ti chiami sei l'attaccante dell'Inter sei abbastanza in fiducia per una stagione positiva brillante può capitare la serata no perché capita ai migliori e senza se non indirizzi il pallone in porta lì che poi andava sul palo andava fuori lo dovevi indirizzare meglio sei un attaccante diciamo che catalogo quell'episodio come momento decisivo della partita uno dei momenti decisivi negativi dell'Inter grazie a tutti